Presidente, si rinnova questa convenzione, la Regione ha trovato delle risorse importanti per arrivare a quella che è un'opportunità per i ragazzi ma anche per il territorio e le sue istituzioni. Sì, è importante, segno della volontà di collaborazione istituzionale anche grazie alla programmazione europea che ci mette a disposizione queste risorse che noi metteremo a disposizione di altre istituzioni per la formazione di tirocini che sono fondamentali, utili e anche a riprova di una volontà di collaborazione di una filiera istituzionale che credo possa essere definita virtuosa. Ci sono tanti ragazzi che se possono avere delle opportunità possono anche restare sul territorio magari? Sicuramente lo spirito è proprio quello di riuscire per il tramite di questi tirocini di dare nuove opportunità formative soprattutto all'interno di circuiti molto importanti per il funzionamento dello Stato, quindi è un'opportunità di crescita non solo dei tirocinanti ma una crescita collettiva.